Ottavo capitolo di Storie del castello di Trezza di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico, letto da Francesca Roma. Capitolo ottavo Una sera il barone tardava a venire, la luna specchiavasi sui vetri storiati dell'alta finestra, e il mare fiottava sommessamente. La baronessa stava da lunga pezza assorta sulla sua alta seggio labbraccioli, col mento nella mano, distratta o meditabonda. Corrado, il bel paggio del barone d'Arvelo, l'aveva domandato inutilmente due volte se il comandasse di montare a cavallo ed andare in traccia del suo signore. Al fine Donna Violante gli fissò in viso lo sguardo pensoso. Era un bel giovanotto, Corrado, dall'occhio nero e vellutato, e dalle guance brune e fresche, come quelle di una vaga fanciulla di Trezza, così timido che quelle guance dorate si imporporavano alquanto sotto lo sguardo distratto della sua signora. Ella lo fissò a lungo senza vederlo. — No! disse Poscia. — Perché? Si alzò, andò ad aprire la finestra e appoggiò i gomiti al davanzale. Il mare era levigato e lucente, i pescatori sparsi per la riva o aggruppati dinanzi agli usci delle loro casipole, chiacchieravano della pesca del tonno e della salatura delle acciube. Lontano, lontano, perduto, fra la bruna distesa, si udiva ad intervalli un canto monotono e orientale. Le onde morivano come un sospiro ai piedi dell'alta muraglia. La spuma biancheggiava un istante, e l'acro odore marino saliva a buffi, come adondate anch'esso. La baronessa stette a contemplare sbadatamente tutto ciò, e sorprese se stessa, lei così in alto nella camera dorata di quella dimora signorile, ad ascoltare con singolare interesse i discorsi di quella gente posta così in basso al piede delle sue torri. Poi guardò il vano nero di quei poveri usci, il fiammeggiare del focolare, il fumo che svolgevasi lento, lento dal tetto. Infine si volse bruscamente, quasi sorpresa dal paggio che, ritto sull'uscio, attendeva i suoi ordini. Guardò di nuovo la spiaggia, il mare, l'orizzonte segnato da una sfumatura di luce, l'ombra degli scogli che andava e veniva con l'onda, e tornò a fissar Corrado, questa volta più lungamente. Ad un tratto arrossì, come sorpresa dalla sua distrazione, e per dir qualche cosa domandò sbadatamente. — Che ora è, Corrado? — So le due di notte, madonna! — Ah! Le sue ciglia si corrugarono di nuovo, chinò gli occhi un istante, e con un suono d'amarezza indicibile. Tarda molto stasera il barone. — Non temete, madonna, la campagna è sicura, la sera è bella, e la luna non ha una nube. — È vero, disse ella con uno strano sorriso, è proprio una sera da amanti. E seguitò a fissare il giovinetto col suo sguardo da padrona, senza pensare a lui che ne era colpito. Lasciò la finestra e andò a sedere sulla seggiola stemmata, ai piedi della quale si teneva il paggio. Non più melanconica né meditabonda, ma inquieta, agitata, nervosa. — Conosci la mena? domandò ad un tratto bruscamente. — La mugnaia del capo dei molini? — Sì, la mugnaia del capo dei molini, ripetè con un singolare sorriso. — La conosco, madonna! — E anch'io, esclamò con voce sorda, me l'ha fatta conoscere mio marito. Per l'altera castellana Corrado non era altro che un domestico, un giovanotto che portava il suo stemma ricamato sul giusta cuore di velluto, e che era leggiadro, e avea la chioma bionda e inanellata per far onor alla casa. Ella dunque parlava come fra sé, con la sua eco, perché il suo cuore era troppo pieno, perché l'amarezza non s'era sfogata in lacrime, e gli fece una singolare domanda, con singolare accento e con gli occhi fissi al suolo. — Perché non sei l'amante della mena anche tu? — Io, madonna! — Sì, tutti vanno pazzi per cotesta mugnaia. — Io sono un povero paggio, madonna! Ella gli fissò in viso quello sguardo accigliato, e a poco a poco le sopracciglia si spianarono. — Povero o no, tu sei un bel paggio, non lo sai? I loro occhi si incontrarono un istante, e si evitarono nello stesso tempo. Se la vanità del giovinetto si fosse risvegliata a quelle parole, tutto sarebbe fluito fra di loro, e l'orgoglio della patrizia si sarebbe inalberato così all'audacia del paggio che il cuore della donna si sarebbe chiuso per sempre. Ma il giovinotto sospirò e rispose, chinando gli occhi, — Ahimè, madonna! Quel sospiro aveva un'immensa attrattiva. Mille nuovi sentimenti confusi e violenti andavano confiandosi nell'animo della baronessa, come le nubi su di un mare tempestoso. Ella, pura, bianca, superba, ella che discendeva da principi reali e da re castigliani, non poté fare a meno di paragonare quel giovinetto ingenuo, leggiadro, che avea cuore di cavaliere sotto una librea di domestico, a cui l'uomo rozzo, brutto, villano, coronato di barone, cui s'era data, e il quale la posponeva ad una bellezza da trivio che portava zoccoli ai pieti e sacchi di farina sul dorso. Lagrime ardenti le luccicarono nell'orbita, asciugate subito da qualcosa di più ardente ancora, divorate in segreto. Tutto quel movimento interno sembrava aver voce e parola, sembrava gridare da tutte le sue membre e da tutti i suoi pori, e il paggio osava fissare per la prima volta su quella sovrana bellezza, delirante in segreto e che faceva delirare i suoi belli occhi azzurri, scintillanti di luce insolita. «Corrado!» esclamò ella all'improvviso, con voce sorda e interrotta, come perdesse la testa. «Tu che la conosci, tu che sei uomo, dimmi se cotesta mugnaia è bella, se è più bella di me, dimmelo, non aver paura!» Il giovanetto guardava affascinato quella donna corrucciata, fremente, gelosa, rossa, di onta e di dispetto, bella da far dannare un angelo. Impallidì e non rispose, poi, con la voce tremante, con le mani giunte, con un accento che fece scuotere, trasalire, la sua signora esclamò. «Oh, abbiate pietà di me, madonna!» Ella gli lanciò un'occhiata fosca, senza sguardo, e si allontanò rapidamente, fuggendo. Andò ad appoggiarsi al davanzale, a bere avidamente la fresca brezza della notte. Quattro ore suonavano in quel momento. Non si vedeva un sol lume, né si udiva una voce. Che cosa avveniva in quell'anima combattuta? Nessuno avrebbe saputo dirlo, lei meno di ogni altro. Che tali pensieri sono vertiginosi, tempestosi anche, com'è complesso il sentimento da cui emanano, ad un tratto, volgendosi bruscamente verso di lui. «Senti», gli disse, «Hai torto, paggio o no, povero o no, sei bello e giovane da far perdere la testa, e hai torto a non esser l'amante della mena. Il tuo padrone, che è vecchio e brutto, l'ama. L'amore è la giovinezza, la beltà, il piacere. Non ci credevo, ma mio marito me l'ha insegnato, e questo marito non è né giovane, né bello, né gentile. Io mi son data a lui, ero bella, ti giuro, ero bella allora, delicata, tutta sorriso, e trepidante arcanamente, sotto la ruvida mano che m'accarezzava. Nel convento avevo sognato tante volte che quella prima carezza mi sarebbe venuta da un'altra mano bianca e delicata che mi aveva salutato e che le mie vergini labbra avrebbero rabbrividito la prima volta sotto quelle altre che m'aveano sorriso, ombreggiate da baffetti d'oro attraverso la grata. Invece furono le labbra esute del barone d'Arvelo. Colui era bello come te, biondo come te, giovane come te. Io gli apriei la mia beltà, la mia giovinezza, il mio primo bacio che gli avevo promesso col primo sguardo, il mio cuore che era suo. Per darli a quest'uomo cui mi avevano ordinato di darli, egli li diedi lealmente. Ora, senti, io sono povera come te, non possedevo che il mio bel nome, e gli ho dato anche quello, e ho combattuto i miei sogni, le mie ripugnanze, i palpiti stessi del mio cuore. Adesso quest'uomo cui ho sacrificato tutto ciò, che mi ha rapito tutto ciò, questo ladro, questo sleal cavaliere, questo marito infame, ha mescolato il mio primo bacio di vergine al bacio impuro di una cortigiana. Ella chiuse gli occhi con un'espressione indicibile di raccapriccio. Tu non sai, non puoi sapere quale effetto possano fare tali infamie sull'animo di una patrizia, ma giuro per Santa Rosalia che mi vendicherò in tal modo che farò tale ingiuria a quest'uomo, che lo coprirò di tale vergogna, quale non basterà a lavare tutto il sangue delle sue vene e delle mie. Io son giovane ancora, sarò ancora bella quando amerò, ti giuro. Vuoi, di vuoi! egli tremava tutto, ella gli afferrò il capo con gesto risoluto, con occhi ardenti e foschi, e gli stampò sulla bocca un bacio di fuoco. Fine del Capitolo Ottavo